Quello che ascoltiamo questa sera è un estratto di quello che poi porterete in tour in tutte le piazze d'Italia. Noi faremo chiaramente i brani nostri, dei vari Sanremo che abbiamo fatto, San Benzano, poi faremo anche dei brani insieme, delle cover. Insieme con Clio. Esatto. Vi ho separato momentaneamente prima, vieni Clio. Anche perché volevo sapere quali sono le tue ragioni, quelle per le quali manifesti? Sono diverse. Intanto una musicale. Una musicale, sì, io amo molto il pop rock. Ami molto la danza, ami molto il ballo. Sì, insomma, artista a 360 gradi. Anche Joe ha un passato da ballerina, non lo dice. Sapevo di qualche concorso di bellezza vinto, lo possiamo dire, Miss Teenager. Parlo qui. Dove vuoi? Più che di bellezza era, diciamo, ti esibili di cantare. Sì, beh, il teenager naturalmente era aperto e steso un po' in tutti i settori. Sì. Quindi hai anche tu dei trascorsi? Sì, ho fatto danza classica, ho cominciato dopo tre anni, insomma, piccolissima, per molti anni. Grazie. Grazie. Grazie.